quindi ve lo lascio a lui. Tu parlaci di Didier Deschamps e poi da Paolo... Allora, se l'avete pescato il cavesa, sarebbe il cavesa come il soprannome dato da Paolo, il caveso, vabbè. No, proprio la testa piccola. Se l'avete beccato due capitoli, tutti per Paolo, sono uomini suoi. Perché io le dicevo a Didier che era deforme, che aveva le gambe così, il corpo così e la testa così. E lui si arrabiava, le dicevo, Didier, il cavesa, quando ti vai al cinema, prima di fila non ti puoi metere, non guarda nessuno. Ricordi ma quando le dicevo, non hai mai vinto a passare un aereo. e lui si arrabbiava con me. Ora ora passo un aereo, passo un aereo, le dicevo, mi ricorreva per tutto il comune. Ma Didier, quando gli dicevi, Didier, sei brutto o stai piangendo? Sei brutto o hai legato un limone, le dicevo. Ma siete terribili, siete tremendo. Matto matto ancora, Giuliano che stela ride. No, Mario, che ricco...